da anni agenzia formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento grazie alla collaborazione di partner internazionali puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno è riconosciuto in italia affrettati i posti sono limitati lunedì 28 giugno apriamo con una bella notizia da sciacca dove è stata realizzata una vincita al super analotto con una giocata di pochi euro un fortunato vincitore si porta a casa 100 mila euro la vincita con giocata presso la ricevitoria genuardi di corso fazzello nel quartiere san michele questa mattina abbiamo intervistato i titolari ancora il fortunato vincitore non si è fatto vivo loro dicono speriamo che sia una persona che ha veramente bisogno di questo denaro e magari speriamo anche che venga da noi per brindare la coronaca giudiziaria la la corte d'assise d'appello di palermo ha confermato questa mattina la condanna a 15 anni di reclusione quindi ha confermato la pena che era già stata decisa nel giudizio di primo grado al tribunale di sciacca in abbreviato a carico di pietro leto di 22 anni di alessandria della rocca accusato di avere accoltellato e ucciso un altro giovane di alessandria della rocca vincenzo busciglio di 23 anni i fatti si riferiscono al 12 marzo del 2019 l'imputato ha sempre respinto le accuse e la difesa con l'avvocato antonino gazziano valuta adesso il ricorso per cassazione porto di sciacca circa 60 metri cubi di rifiuti speciali sono già stati individuati dalla ditta che si occupa della rimozione al porto di sciacca su incarico del comune una buona parte è già stata rimossa ma la notizia negativa noi questa mattina siamo stati al porto abbiamo intervistato il rappresentante del vvf di sciacca mazzotta la brutta notizia è che c'è stato riferito che alcuni rifiuti sono stati abbandonati anche durante le scorse ore quindi in piena attività di bonifica c'è ancora chi va ad abbandonare rifiuti al porto di sciacca e quindi chiaramente ancora di più si rende necessaria la video sorveglianza altrimenti si rischia di vanificare un lavoro che costa al comune circa 30 mila euro passiamo ad altri argomenti l'approvvigionamento idrico a sciacca è difficile in queste ore perché sono stati riscontrati due guasti in due zone diverse dell'acquedotto Carboine ha dato notizia la gestione commissariale del lati e quindi bisogna sono già in corso i lavori per la riparazione della condotta ma chiaramente ci potranno essere dei disagi che riguardano l'approvvigionamento idrico anche in queste ore un'altra notizia da sciacca riguarda il parcheggio selvaggio che nonostante l'estate nonostante già la prima presenza di turisti un migliaio quelli che soggiornano in questi giorni a sciacca mare ma il parcheggio selvaggio in centro storico a sciacca c'è sempre con auto parcheggiate sulle zone riqualificate del corso vittorio e manuele della via giuseppe licata questa mattina vi mostriamo delle foto sul nostro sito ma tutto questo e tanto altro sempre su risoluto punto e